Se no veramente ti venga a trascinare, non è più quei favolosi capelli adesso, quindi è perché lei ha deciso il taglio corto che sta benissimo, è favolosa. Però ecco, gentilmente, che ne dici Lorin? Dai, su! Dai, dai che ci siamo davvero, stavolta ci siamo davvero. Tu dici eh? Dico di sì. Ma se me lo fa credere? Me lo fa credere che sono arrivate le coriste, sono arrivati tutti tutti in questo momento sul palco, davvero in questo momento manca soltanto. Le coriste mancavano, eccole, eccole, le sto vedendo perché sono vestite di bianco, quindi anche nel buio si notano questi tre vestiti bianchi, queste tre persone che stanno prendendo posto sedute sugli sgabelli, non sono in due. Ormai ci vedo anche triplo, andiamo molto bene. Signori. E se si illumina il retro, il grande schermo dietro al palco, siamo pronti per il concerto, siamo pronti, anzi noi siamo pronti anche da un paio d'ore, diciamo, per questo concerto. E se cosa stai in sguardo? Ma come te trovi? Grazie a tutti Grazie a tutti